Che gran pezzo A la Gallup, l'ospirante per la Fighters Team, Gabrielle Pirinei! 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 Un gancho l'armo, un gancho l'armo, un gancho l'armo, parmi il tuo gancho. Grazie, grazie, metti il gancho l'armo, metti il gancho l'armo. Attenzione, attenzione, sì, beh beh, qui sotto, qui sotto, beh beh! Metti il gancho, un gancho. Beh, beh, sì. Ok. state quella gara spazzate su quella di sotto quando gara si mette a fare la gara di affoggi metti i pugni metti gara vè cuto vè vè più deciso se lo prendi metti piazza il colpo metti vè piazza il colpo vennato vè metti gara vanno a aspettare più reattivo più reattivo vedi vè 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 metti i cagliolani metti i cagliolani metti i cagliolani vè 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 metti i cagliolani vè vè ok stacca la camsata vè spazio 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 stacca la camsata spazio 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 ptp Sì! 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 We are there! How many deer? We are here! We are there! What are we doing! We are here! We have a great job! We are here! We are here! HWCV! tecno service dito a pulire di chiede marco giovanni l'intenteggiatore fai ok 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 Vai! Vai! Scogli! Alì! Dai, non può! Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vai sopra, vieni Vieni, vieni Vai che, spero di andare Vai su Vai tu! Tira! Subito! Ok! 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 Vai! Vai! Rispondi! Prima attiva! Azione! Vecco la via! Rispondi! Vieni! Grazie a tutti. Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. Che cazzo. No li provano la porta? oh esta l'insenso